NIS Art e Artistic Vision è la mostra che sarà presente a Caltanissetta dal 10 al 27 novembre. 26 le opere di altrettanti artisti coinvolti che potranno essere ammirate a Palazzo Moncade e all'ex rifugio di Salita Matteotti, un progetto espositivo che nasce dalla collaborazione tra Viberto Biennale, Federico II Eventi e Valisa Le Dimore della Cultura insieme all'amministrazione comunale di Caltanissetta e all'assessorato della Cultura. Creare emozioni attraverso il segno, attraverso il colore, attraverso l'immagine, attraverso il significato di ogni opera esposta che possa toccare l'interesse di chiunque possa venire a vedere questa mostra. Sono quasi cento opere con cui si può dialogare, dialogare con l'anima come si suol dire, il linguaggio dell'arte è il linguaggio muto ma è il linguaggio del colore e il linguaggio del cuore. La ricerca delle ragioni dell'arte, la sua visione intuitiva, le emozioni che suscita sono oggetto dell'esposizione che vede questi 26 artisti coinvolti in molti riferimenti alla donna nelle opere e sotto tema cercato per omaggiare la città delle donne. La rassegna internazionale di arte contemporanea coinvolge artisti italiani, argentini, greci, palestinesi che declinano l'arte attraverso la pittura, la scultura, la moda e tutte queste espressioni confluiscono in un unico grande messaggio che è quello di promozione della pace e della fratellanza. Avere dato il patogine ad una mostra di arte contemporanea apparentemente esula dalle competenze della soprintendenza però quando c'è una condivisione di intenti come in questo caso finalizzata non solo a valorizzare l'arte ma anche a valorizzare dei beni storici come il nostro palazzo Moncada che giustamente il sindaco ha definito il palazzo per eccellenza la soprintendenza è sempre a fianco di chi vuole attivare questo genere di operazioni di carattere culturale. La mostra sarà quindi visitabile da lunedì al sabato dalle 10 del mattino alle 13 dalle 17 alle 20.